Da quando le nostre case sono diventate i nostri uffici, abbiamo bisogno di trovare un nuovo equilibrio. Nasce Sintesi, l'ecosistema che vive in un'app e lavora per il tuo benessere. Unica è la rivoluzionaria postazione creata per rendere lo smart working veramente smart. Navighi in sicurezza senza utilizzare la tua connessione di casa, con il massimo benessere visivo, acustico e ambientale. Con tecnologie al servizio della tua salute che controlli direttamente dall'app. E quando hai finito di lavorare, Unica occupa pochissimo spazio. Quando da casa ti sposti in ufficio, nell'app Sintesi trovi anche l'edificio della tua azienda digitalizzato, mappato e connesso. Per muoverti e vivere gli spazi in tutta comodità e sicurezza. Arrivi senza stress prenotando il parcheggio. E accedi grazie al tuo profilo unico. Puoi lasciare la borsa o ritirare la posta nella zona locker. Prenotare e accedere alla tua postazione. Oppure organizzare una riunione con il tuo team, settando l'ambiente con lo scenario più adatto. E i tuoi momenti di pausa sono in completa sicurezza. In Sintesi, abbiamo semplificato la gestione degli ambienti per renderli più sicuri, organizzati ed efficienti. Mettendo design e tecnologia al servizio di un unico scopo. Il tuo benessere. Sintesi Sintesi The Work-Life Ecosystem The Work-Life Ecosystem The Work-Life Ecosystem